Inizia l'estate e in questa puntata 4 piccole ruote 2.0 propone angoli di Torino, una visita inaspettata al museo Dante Giacosa, i raduni di questo periodo, solidarietà in 500, curiosità dall'Australia. Storie di restauro. Fiat 500 Club Italia a Viva Radio 2. 500 News. Si è tenuta recentemente la prima manifestazione a calendario oasi realizzata dal Fiat 500 Club Italia, angoli di Torino. L'evento ha avuto inizio a Villa Ray, sede dell'automotoclub storico italiano, dove le Fiat 500 si sono radunate per poi partire verso il centro della città. Una volta posizionate le vetture in piazza Vittorio Veneto, queste sono diventate motivo di attrazione per i turisti e il passano, che si sono fermati a scattare foto e a chiedere informazioni. Nel pomeriggio, ad animare equipaggi e pubblico, erano presenti i membri della famiglia Turinesa, con Giacometta e Gianduia, che hanno coinvolto tutti con balli tradizionali. Il viaggio nella storia e nella tradizione è continuato poi con la rievocazione del gruppo Pietro Micca, anch'esso molto coinvolto e disponibile per racconti e fotografie. Una piacevole sorpresa. Il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli è in visita ad Arlenda, in occasione di un importante evento sportivo e sociale. E non è mancato un momento per visitare il Dante Giacosa. Il tuffo nel mondo della piccola storica utilitaria ha sorpreso il ministro, che ha fatto domande e scattato foto con entusiasmo, non rinunciando neppure a provare uno dei simulatori di guida e al classico scatto ricordo dalla finestrella a formato di cinquilo. Intanto sono molto orgogliosa di avere questa tesserina, immeritata, nel senso che non sono così brava come le persone che ho conosciuto oggi. Domenico, una grande squadra che coltiva ha la passione per la 500, ma anche il rispetto per le altre persone. Mi ha colpito molto la grande capacità del club di avvicinarsi agli altri, quindi anche di pensare a delle campagne di aiuto e di supporto per associazioni e il mondo delle fragilità. Quindi grandi complimenti a voi, siete una bellissima squadra, complimenti al comune di Arlenda e io spero di veramente poter collaborare con voi anche in futuro. Grazie. Grazie. Ringraziamo il comune di Arlenda che ha accolto il ministro per un'iniziativa sportiva e sociale presso il Tennis Club e adesso partiamo con il primo giro di raduni di questo periodo del FIA 500 Club Italia. Buongiorno a tutti, primo raduno aiutaci a aiutare in 500, un raduno organizzato dal coordinamento Riviera delle Palme con il patrocino del FIA 500 Club Italia a favore a scopo benefico della pubblica assistenza a Pietrasoccorso di Pietraligure. Abbiamo avuto un'altissima concentrazione di equipaggi, siamo a 40 equipaggi in questa bellissima veste che vi faccio vedere per una bella panoramica di tutti i nostri mezzi che sono qui, con lo sfondo alla cattedrale di San Nicolò e comune di Pietraligure. Tutti i proventi di questa magnifica giornata saranno devoluti alla pubblica assistenza e grazie al FIA 500 Club Italia continuiamo a portare benissimo tutta la beneficenza che si può dare. Vi aspettiamo numerosi, soprattutto per il prossimo gran meeting, il quarantesimo gran meeting del FIA 500 Club Italia a Arlenda. Mi raccomando, ci devi essere anche tu. Ciao, se non ti sei ancora iscritto però fallo perché siamo quasi al top. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao. 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 Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti